La sede dell'organizzazione umanitaria Save the Children a Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan, è stata colpita da un attacco sferrato alle prime ore dell'alba del 24 gennaio 2018. Secondo le prime testimonianze, verso le 5.40 ore italiana, un'autobomba esplosa davanti all'ingresso del complesso di Save the Children, dove in seguito è entrato un gruppo di uomini armati facendosi strada colpi di lanciarazzi. 11 feriti sono stati portati in ospedale, ha segnalato il portavoce del governo provinciale a Taullaco Ghiani, ma il bilancio è ancora incerto. Si tratta di un modus operandi piuttosto consolidato, con cui i ribelli si aprono una breccia innescando un'esplosione e poi sparando all'impazzata per introdursi nell'edificio preso di mira. Almeno un veicolo della ONG ha preso fuoco, sprigionando una densa nube di fumo nero. L'attentato segue di quattro giorni quello a un grande albergo di Kabul, rivendicato dai talebani, che ha provocato una ventina di morti, tra i quali 14 stranieri. Jalalabad, capoluogo di Nangarara, la frontiera con il Pakistan, è caratterizzata da una forte presenza di talebani ed esponenti dell'ISIS che hanno allestito in vari distretti di questa provincia il proprio quartier generale in Afghanistan.